Ciao a tutti, sono Riccardo Vendotti, sto realizzando questo video come testimonianza per Big Luca, per la Big Luca International Consulting. In realtà questo è il secondo video di testimonianza che faccio per lui e sono veramente contento di farlo, perché se lo merita, perché condivido informazioni importanti e soprattutto applicabili a quelle che sono le attività che andiamo a fare. Io oggi ho 24 anni, vado per i 25 e sono tre anni e mezzo che lavoro online, prima che Luca arrivasse in Italia già facevo delle attività e sicuramente ho iniziato ad ascoltare le informazioni che condivideva anche perché a quell'epoca diciamo che veramente nessuno parlava dei temi che affrontava lui e soprattutto nessuno dava quelle informazioni realmente applicabili, che questo è quello che differenzia secondo me Luca da tanti altri che parlavano nel mercato italiano a quell'epoca. Quindi l'ho ascoltato, comunque ho messo le mani in pasta perché poi come ogni cosa noi possiamo avere le migliori informazioni ma se non ci rimettiamo in gioco i risultati non arriveranno mai per nessuno. Quindi da lì a poco ho iniziato a lavorare in modo abbastanza focalizzato su quello che è il mondo della formazione, infatti diciamo che negli ultimi due anni, due anni e mezzo ho lavorato con diversi partner, lanciato diversi infoprodotti con risultati anche molto importanti, con lanci da oltre 100-150 mila euro nell'arco di una-due settimane di lancio del partner, del brand e quindi ero sempre stato come dietro le quinte di quelli che erano alcuni lanci, formatori anche riconosciuti che tra l'altro amici in comune che poi ci hanno fatto modo di creare un minimo di rapporto con Luca e quello che poi è successo è che quest'anno, per essere più precisi, verso la fine di aprile ho lanciato quello che è il mio personal brand, quindi ho deciso di oltre a seguire alcuni partner come dietro le quinte ho deciso di uscire personalmente con la mia immagine, infatti può essere che magari chi sta guardando questo video è già stato tempestato di pubblicità e da zero perché poi in realtà io ero consapevole, avevo ottenuto dei risultati su altri partner quindi ero consapevole di come fare determinate cose, però su di me alla fine non avevo ancora applicato nulla e sono contento di condividere un po' i risultati ottenuti perché posso dire tranquillamente che alcune informazioni che Luca ha condiviso mi hanno aiutato anche sul mio personal brand, quindi questo lo dico con totale serenità non esiste neanche quella finta concorrenza che tanti pensano ma si è tutti qua per crescere quindi sono contento e tranquillo nel dirlo anche se comunque tratto argomenti abbastanza affini a quello che è la sua attività principale allora diciamo che maggio lancio il mio personal brand, primo mese 30.000 euro di vendite con un profitto molto già importante, mi sembra che ero intorno al 70% quindi comunque da zero passo subito a un primo mese, molto importante nell'arco di un primo trimestre perché se consideriamo la chiusura di luglio ho superato i 100.000 euro di vendite su un personal brand completamente nuovo quindi ovviamente per chi lavora online, per chi vende informazioni online sa cosa vuol dire creare un personal brand da zero e partendo da zero portarlo subito a determinati risultati e questo vuol dire avere comunque le informazioni giuste da applicare a luglio posso dire che ho superato i 40.000 euro incassati anche se è un mese molto particolare oggi siamo in agosto e sono in linea con oltre i 1000 euro al giorno ora, beh, questi sono un paio di dati che ci tenevo a condividere anche se non è tanto lì il focus ma il focus è sul prendere le informazioni giuste e applicarle quindi veramente consiglio a chiunque guarda questo video ma consiglio anche a tutte le persone con cui ho modo di rapportarmi di ascoltare le informazioni di Luca, di apprendere quelle che sono le informazioni e poi di applicarle nel proprio settore e confermo quello che avevo già detto nella prima testimonianza ovvero che da quando Luca è arrivato sul mercato italiano ha completamente rivoluzionato un modo dell'intera industria della formazione su un modo di lavoro ha comunque cambiato quello che erano i parametri e quelle che erano le dinamiche anche per chi già lavorava nella formazione da tempo e si è visto chiaramente per chi già era un po' presente sul mercato l'ha visto quindi sono pienamente fiducioso che Luca continuerà a dare ottime informazioni al mercato consiglio di seguirlo, consiglio di ascoltarlo e sarei un'ipocrita a dire il contrario sia in questo video sia a tutte le persone che mi chiedono cosa ne penso di Luca e che tipo di aspettative poter avere da quello che sono i suoi corsi e le sue informazioni consigliatissimo, continua così, grande Luca ti auguro il meglio auguro il meglio a tutte le persone che hanno visto questo video a presto da Riccardo, ciao!